Ciao ragazzi sono Bluefire, benvenuti nel terzo episodio di Hide and Seek Vi ho detto già come accedere al server, quindi adesso vi auguro a voi una buona fortuna perché è veramente difficile, sono veramente tanti i player e entrare gratis non è una cosa da foco Salutiamo questi... tu sono tutti con il skin dal creeper sulla schiena Ma perché? Dico, fatevi una bella skin... Ehi là, ciao tipa Ok, lasciamo stare le tipe e seguiamo Iron Man, no non lo so Comunque adesso dovrebbe iniziare, mancano tre secondi Cosa non ci nascondiamo? Ci nascondiamo stavolta, spero di nascondermi Ehi, ti picchio, che brutto che sei Si parte, ok, cosa sono? Ok, sono fornace Sono una fornace, dove mi metto? No, non di qua Dobbiamo andare di là Che di là mi ricordo che c'è lo spazio aperto Ecco, infatti, open space L'ho fatto giusto prima, questa mappa, per fortuna sono ricapitato in questa E quindi so dove nascondermi Chissà se le fornaci possono salire, tipo E fare il parkour Sì Dovrebbero potere Allora, mi sto metto andando alla parte opposta il più distante possibile dallo spawn Così Che Comunque per raggiungermi ci vado un po' Aggiriamo la costruzione di vetro E ora le scelte sono due O fare parkour o nascondersi E io gli direi che ragazzi cosa facciamo? Ci nascondiamo in mezzo alle fornace È più divertente Ok, quindi andiamo a vedere dove sono le fornaci Si può entrare tipo in sta stanza Ci sarà una fornace Sì, è anche difficile da entrarci Quindi È perfetto per il mio scopo Ce la farò No, ragazzi Sì Ok No, non sono entrato ancora Ok, ce l'ho fatto E ci mettiamo qua O no O ancora No, non si può Mettiamoci No, la lampada non si può Ci mettiamo Allora, secondo me sarà tentatissimo di fare Ok Saranno tutti tentatissimi Coloro che entreranno qua Di colpire le cose A vista Quindi mi sono messo per terra È possibile Vi faccio vedere tanto con F5 Sempre È bellissimo Ragazzi, ma quanto è bello Cioè Quanti di voi hanno sognato Di fare una cosa del genere Di avere una testa di fornace Quindi comunque Se arriva qualcuno Io dovrei riuscire a colpirlo In questo caso Non so Penso che comunque lo Lo lascerò cercare per un po' Abbiamo ancora 190 secondi E in questi 190 secondi Io Vorrei Vorrei Un Un attimo di 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 Boh Non so Vorrei parlarvi Di questa modalità Senso È Secondo me È abbastanza bella Come idea Ma come mappe Bisogna lavorarci Cioè È molto difficile per entrare Per il non premium Quindi Non è il massimo Però io Spero che I miei gameplay Vi possano piacere Io sto lì Oro davanti ai cartelli A aspettare il match giusto Bene Detto questo Arriva qualcuno qua Io continuo a vedere Quel libro girare Non ne posso più Stupido libro Mi sa che mi sono nascosto Troppo bene Non posso far vedere Neanche gli altri Cioè Non posso scappare Che poi vede Cioè Se tu vedi gli altri cubi Scappare Chissà se entrano dei cubi qua Mi sarebbe vedere Entrare tipo Un 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 command block Voglio tanto essere Un command block Deve essere difficilissimo Nascondersi Comunque Oh 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 Hi guys Salutiamo Hi guys You are on YouTube Lo dico sempre YouTube Lo fire TV I win XD 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 Ah 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 Sono italiano I'm Italian Italian Ha 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 Bene Abbiamo detto tutto E Non ci troverete Ha 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 Nella chat Aston Walker Bellissimo chat Oh no Momento pericolo Uh Ha rinunciato Dark Martian Ok Per fortuna Ha rinunciato Cioè Ha creduto come me Che fosse troppo Difficile Entrare Ho 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 I win Troppo nascosto bene To hidden Hidden Gli dico cosa sono? Già gli dico che sono una fornace Potrebbe essere tutto più divertente No 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 Ok l'ho picchiato E lui non ha capito cosa sono Potrei essere qualunque cosa Questo è il bello Ah l'ho ucciso Ho preso anche 10 punti Quanto manca? 26 secondi Tornerà a uccidermi Che figata Ho scelto un posto bellissimo A quanto pare Ok complimenti tizio Spero che non mi uccido in questi 10 secondi I win I kill him No mancano 10 secondi Cavolo Vedete scrivere nella chat cosa succede? Vabbè Hanno preso loro 150 punti Io ho scritto nella chat E sono morto Da Blue Fire Tutto Ok ciao a tutti Sarebbe bello registrare con altri fan Però non credo che riusciremo a entrare tutti assieme Tipo in sti cosi È difficilissimo Maledizione Perché il cartello diventa rosso E bisogna cliccare velocemente E non vi fa entrare comunque Bene Alla prossima puntata Ciao a tutti Bye bye